Eccoci, buongiorno, ancora presenti sul medio-basso adriatico un po' lo strascico, la coda della perturbazione che vedete ormai si è spostata verso est, strascico, ma c'è qualche temporale in questo momento, quindi non è che sia proprio nulla, se no qualche nuvola c'è in parte al sud, ma niente di particolarmente minaccioso, così come a ovest, da dove è arrivata questa perturbazione di ieri, c'è qualche zona nuvolosa, ma niente di particolarmente minaccioso, questo non ci deve rassicurare perché a volte queste perturbazioni si preannunciano largamente, a volte meno. Vediamo che cosa succede nella giornata di oggi, queste precipitazioni sul versante adriatico si attenuano rispetto a come sono in questo momento, qualche fenomeno un poco più intenso fra Sicilia e Calabria, se no sono delle piogge non intense, al nord, sul resto del centro e al nord ci sono ampie schiarite, sul nord-est invece ancora una zona con precipitazioni che in maniera molto isolata potrebbero anche essere intense, però insomma una situazione di esaurimento del maltempo di ieri, qualche strascico cosiddetto. Vediamo la giornata di domani, qui c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che tende a ricambiare, dicevo non c'è niente di minaccioso all'orizzonte, il che non significa che non arrivino delle cose perché non sempre si preannunciano. Allora, partendo dal sud, sulla penisola ampie schiarite, in Sicilia qualche pioggia, poi piogge deboli, vedete il verde sono due millimetri nel corso di tutta la giornata, quindi niente di intenso a prendere il centro, parte della pianura padana, ma poi c'è questa zona che parte dall'Alto Piemonte e arriva al Friuli Venezia Giulia, non solo in zona alpina, con fenomeni piuttosto intensi come si vedono anche al di là delle Alpi. È il nuovo peggioramento che arriva in maniera piuttosto marcata nella giornata di giovedì, perché sicuramente viene interessato tutto il nord, a fine giornata qualche schiarita ovest, il nord-est, questi colori e questa estensione delle macchie colorate ci dice che è un maltempo molto forte, e lo stesso vale per la Sardegna, per le regioni centrali, in parte si arriva a sfiorare la Campania, insomma un poco il sud, ma gran parte del sud non ha fenomeni intensi, in qualche caso fra Campania, Molise, Puglia, qualche fenomeno intenso c'è, però vedete che è una situazione molto marcata, che ci metterà almeno 24 ore a esaurirsi. Quindi è l'autunno bellezza, vedete perché dal punto di vista meteorologico l'autunno comincia il primo settembre, perché settembre è in grado di presentare delle connotazioni già decisamente autunnali. Non lo fa sempre, ma quest'anno lo sta facendo. Vediamo i venti previsti per la giornata di oggi, forte e maestrale che esce dal Golfo del Leone, come sempre, e poi vedete attraverso i canali fra le isole maggiori, raggiunge poi lo Ionio, venti molto forti, molto ondoso, molto forte, qualche rinforzo anche sull'Adriatico o sul Tirreno, dove però mediamente i venti sono moderati. Massime previste per la giornata di oggi, non particolarmente elevate ovviamente, ma oggi forse ancora dove c'è un po' più di sole, diciamo si possono superare i 25 gradi, 26 gradi, difficilmente oltre, tendenza nelle prossime 24 ore, diminuzione dove domani comincerà a peggiorare il tempo, cioè nord-est, in parte il versante tirrenico, qualche recupero, il verde, su parte del sud e delle isole maggiori. Vediamo, direi forse solo due delle nostre foto, perché non ci resta molto tempo. Questa che ci ha mandato Nando, dice pioveva, ma io come fotografo non mi faccio fermare da un po' di pioggia, e ha preso questo bello scenario. Dietro sono le Alpi Apuane, siamo a Bocca d'Arno, quindi siamo vicino Pisa, e quindi con una tonalità fra il bianco e il grigio, su quale spicca invece il casottino, con, vedete, il verde e il rosso, poi tutte queste strutture che sono sempre molto scenografiche, credo che sia anche piuttosto complicato manovrarle, ma insomma, non è mestiere nostro. E poi vediamo un'altra foto tipica, perché Marino ci manda molto spesso, nella zona dell'Abruzzo, Villetta, Barrea, le foto di questi cervi, che sono, diciamo, fanno parte non solo del paesaggio, ma girano per le strade, insomma, a me piace molto la cosa, devo dire, che dà l'idea di una natura comunque presente. E questo è un bel maschio, vedete che palco di corna che ha, molto bello, evidentemente non è foto recente, è foto di questo inverno.